Non so come è cominciata l'epidemia, so solo che alcuni cadaveri di notte si risvegliano. Io li chiamo ritornanti, anche se non capisco perché abbiano tanta voglia di ritornare. Non vivo solo, ho un aiutante, Gnaghi. Sulla sua carta d'identità c'è scritto, segni particolari in tutti. La più bella persona viva che abbia mai visto. Il cimitero è piccolo ma ha un magnifico ossario. Non voglio, non posso. Proprio sulla tomba di tuo marito. Avrebbe preferito saperlo. Non contento lui. È sempre stato così complessivo. Capivo. È stato il marito? Sì, come no. È uscito dalla tomba, l'ha violentata e è sgozzata con un morso, è andata così? È vero quello che si dice, che qui di Nati i marchi tornerà in vita. Va bene a casa, non ho tempo per i vivi. Che carino. Gnaghi! No, ti prego, lui mi sta solo mangiando. Vorrei sposare Gnaghi. Io mi oppongo finché avrò fiato in gola! Allora rimediamo subito. Se vuoi evitare che i cadaveri ritornino in vita, tanto vale che tu uccida i vivi. Servizio! Scappiamo! Butti via quella sigaretta in me... Cosa ci fai in terra, sorella? Stai pregando. C'è in giro un altro maniaco omicida. Ha fatto un massacro suo al quarto piano. Mi hanno rubato i delitti. Ostia! Esprimi un desiderio. Vorrei che ti innamorassi di me. Io sono già innamorata di te. Ti lascio il campo libero, sorella. Grazie a tutti.